Ma io sento io che non è successo un problema. Cioè papà mi dice che sta bene, dico me fa stampa insieme. Il problema che a me è successo. Mi guardo, ho conosciuto una ragazza, papà, e quando sto con lei mi trova una voce. Non riesco a parlare. Mi sento il cuore che mi fa... Mi sento... Eh? Ma perché la pazienza è un po'... Un po' spinta. No, non vuoi fermare, rica. Stiamo in famiglia, stiamo... Non è che impegniamo un po' di pulizia. Non è che impegniamo un po' di pulizia. Non mi fa male la giusta. 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 Insomma, mi fa dire che a papà ti sei innamorato. Un sentimento bellissimo. Dico così a papà, io non so che dire. Dico, guarda a papà, tre cose ti devi ricordare. Uno, a te fa tanto rire perché la donna, l'uomo che fa rire, già sei 50% avanti, che sei passato avanti. Dico poi una frase dolce, una carezza, e mi raccomando a papà, guarda la fissa dentro l'occhio. Il giorno dopo il padre va a dar filo un po' preoccupato, dico, sai? Dico allora a papà, adesso non c'è il padre, papà, io dico, niente, sono andato, c'è dopo una tavola, porto a fare una passeggiata romantica, arriva, mi ha fatto salire sul caso. Dico, beh, hai visto? Dico, poi, niente, stavo in cameretta, una frase dolce, una carezza, la papà ha fatto tanto rire. Dice, poi lei mi guardava, io la guardavo. Lei mi guardava, io la guardavo, poi ho spostato la mutanda, io ho messo, ok? Sì, è bello di papà, hai visto? Di tanto profermata, la papà è entrata la madre. Mi ha trattato dal letto, c'è successo? Lei mi guardava, io la guardavo. lei mi guardava, io la guardavo, papà, c'è stato, sono stato andato, io l'ho messo dentro pure a lei. Lei mi metti, metti e leva. A un certo punto, mentre il padre, è trattato dal letto, c'è la madre e c'è la figlia, dice, c'è successo? Vammi la fermata, papà non mi guardava, io la guardavo. Io la guardavo, io la guardavo, papà, io la c'è stato, ho stata la mutanda. Lei mi metti, metti e leva, il padre ricontanto, messava la bocca aperta, ma io parlo di un animale. A un certo punto, mi sento una cosa veloza che mi accarizzi i campi. Dicevo, guarda, papà, in San Bernardo, 140 kg di cane, tutto veloce. Dicevo, papà, dammi un sicuro, i corinani, mi fermate, papà, io mi guardavo, io mi guardavo, io mi guardavo, poi c'è stato, spostato il pezzo, mi sono pulato, mi sono pulato pure al cane. Dicevo, papà, che me stai guardando, papà, ti senti, sei lo che senti. Ma che sei, papà, grazie a tutti. Grazie a tutti.